Sul prodotto di fondo precedentemente applicato, stendere multidecor non diluito con un pennello o rullo su di una superficie di un metro quadro. Con un pennello della misura desiderata, accarezzare leggermente il prodotto in modo da lasciare sulla superficie i segni della pennellata. Continuare l'applicazione del prodotto e la sua lavorazione fino al completamento della parete. Grazie a tutti!